Io ho avuto la fortuna di non andare a scuola e quindi non mi hanno potuto piegare, non mi hanno potuto convincere che per un tozzo di socialità mi toglievano la creatività. Io semplicemente penso soltanto che se gli esseri umani venissero lasciati in pace, rivederebbero appunto questo loro essere un assoluto capolavoro. E che le persone non sanno nulla di essere, non sanno neanche come funziona il loro corpo, non sanno niente dell'ambiente, ma proprio niente, ma neanche i medici, sai, nessuno. Gli esseri umani venissero lasciati in pace, in pace, in pace, in pace, in pace, in pace. Sono in decomposizione e allora sembra che si muovono, ma si muovono perché sono in decomposizione, ma non si muovono. Bene, in una vita come quella che io descritto, non mi arrivo lettere dalla Chiendisia, no. Ma in una società come questa, che non ha nulla di simile alla vita, è una società mortuaria, questa qua, dove quasi tutte le news sono tutte infaracite come un cibo aggressivo e benedico, un morto, è vero, stupido, è un assedio, è una proposta. Questa assedio non è casuale, è molto precisa e io per esempio in questo istante voglio amiciare questo appello. Gli esseri umani venissero lasciati in pace, in pace, in pace. Voglio amiciare questo appello. mi piacerebbe moltissimo che tutte le trasmissioni radio eccetera venissero collegate al responsabile che le corrisponde e che le fa capisci? se uno trasmette delle silenze o delle cose insipide così che sono poi molto utili per la diffusione dei supermercati deve dire il suo nome capisci? questa società che ci ritroviamo oggi è diversa da quella che c'era prima da quella che c'è stata dall'inizio dell'uomo fino a ora o l'uomo è sempre fondamentalmente lo stesso i meccanismi sono sempre gli stessi e quello che cambia forse sono i mezzi i termini quello che l'evoluzione poi ha prodotto da un punto di vista tecnologico eccetera eccetera ma guarda secondo me l'uomo nasce eternamente diverso è chi lo opprime che è sempre uguale allora il meccanismo della sottomissione dell'oppressione degli esseri umani è sempre esercitato da persone sostanzialmente disperate è chi lo opprime che è sempre uguale sempre uguale sempre uguale sempre uguale l'intero mondo oggi come ieri è gestito da una sessantina di persone uno più strazantemente disperato dell'altro io ne ho conosciuto uno di questi sessanta di questi sessanta strani individui che per esempio lui aveva aveva questo blasone aveva un lucido di un miliardo di dollari l'ora questo blasone davvero l'ultimo di un miliardo di dollari l'ora di un miliardo di dollari l'ora di un miliardo di dollari l'ora non bel blasone da presentare no ti dico ti dico che non ho mai incontrato una persona più sfaldata sfaldata insicura insicura più tormentata dall'assoluta incapacità di vivere e siccome questi poveri esseri sono proprio incapaci di vivere le impediscono a tutto il resto del mondo e impedendolo a tutto il resto del mondo le impediscono un colpio a se stessi è una cosa è una storia una fiaba tragica in un certo senso però diciamo che c'è stata un'enorme evoluzione assolutamente positiva malgrado le oppressioni a a a